A Pescara tempi duri per chi abbandona rifiuti in strada, per chi getta per terra una carta o una sigaretta, ma anche per chi non pulisce le deiezioni degli amici a quattro zampe. L'amministrazione comunale, con specifica delibera, che ha fatto un primo passaggio in commissione, ha adeguato il capitolo sanzionatorio previsto dai vari regolamenti del testo unico dell'ambiente. Le nuove multe saranno salatissime. La stretta entrerà in vigore nelle prossime settimane, comunque dopo l'approvazione in Consiglio Comunale. I nuovi importi delle sanzioni illustrati dall'assessore Isabella Del Trecco. Passiamo da un importo che andava dai 50 ai 250 euro per chi conferiva in maniera erronea il rifiuto, da 300 a 3.000 euro. Per arrivare a 26.000 euro laddove si faccia, questo probabilmente da parte soprattutto di imprese, che dei trasporti, delle raccolte, degli smaltimenti di rifiuti non autorizzati, che prevedono non solo delle sanzioni da 2.600 a 26.000 euro, ma anche reclusioni. A mesi o fino a sei mesi, se si tratta rispettivamente di rifiuti non pericolosi o pericolosi. Per chi getta la famosa carta a terra o deiezioni canine, l'aumento è da 50 a 400 euro. 400 euro sarà il minimo sanzionabile per chi non si comporterà correttamente. Chi effettuerà i controlli? I controlli che si stanno già effettuando si fanno tramite la Polizia Municipale, tramite ausiliari ambientali e le telecamere che noi abbiamo sul territorio ed altre che saranno messe. Assessore, tra qualche giorno, il 24 gennaio, partirà la raccolta porta a porta nella zona dei colli, poi verrà estesa anche in altre zone della città. Visto e considerato che l'ambiente SPA lamenta una carenza di personale per vari motivi legati all'emergenza, ma anche ai vari infortuni, sarà assicurata questa partenza del porta a porta? Al momento sì, non ci sono presupposti perché non lo sia. È vero che il periodo non aiuta, che c'è un numero adeguato di persone a casa che non stanno lavorando, in conseguenza di infortuni, malattie varie, anche da Covid, ma non solo da Covid. Però pensiamo di tornare quanto prima alla normalità e al momento non c'è nessun presupposto che non faccia pensare che dal 24 gennaio possa partire tranquillamente la differenziata completa finalmente in tutta la zona collinare.